diciamo la verità siamo stati vicini a tirarli giù tutti i new saints anche quelli old attira veramente tutti il calendario dei saints sarà vicini sarà lì sarà lì ragazzi non si riuscì a segnare nemmeno ai santi gallesi ai santi gallesi non si riuscì a segnare per 60 minuti anche lì zero tiri in porta e lì ho cominciato a vedere la panchina un po basculante la panchina di palladino l'ho cominciato a vedere un po più basculante poi abbiamo messo l'artiglieria pesante e ma c'era bisogno c'era bisogno di mettere gudmunson dodò e ken per battere i santi gallesi i santi gallesi vabbè comunque l'importante è vincere ragazzi peccato che visto la nuova competizione nuovo tipo di competizione della conference peccato non si sia realizzato anche il terzo gol ken praticamente non so riesce a sbagliare i gol più semplici a fare solo quelli difficili comunque vabbè l'importante era vincere sicuramente ecco i primi 60 minuti non erano così confortanti diciamola così perché te con le riserve con tutte le riserve non so quanti di questi perché ancora non si è capito bene chi è riserva e chi no però con tutte le tue riserve a disposizione sicuramente tra queste ci sono ormai lo sappiamo sottil ci sono giocatori come icone ecco già con questi che dovevi chiudere la partita beltran invece male male perché anche oggi per 60 minuti facevi tanta fatica a portarti in avanti ad essere fluido negli ultimi metri mi è piaciuto molto ad li io mi chiedo come mai questo giocatore che secondo me ha delle potenzialità infinite ma ancora non è inquadrato come un titolare così come richardson a me piace tanto mi piace mi piacciono entrambi più di bove cataldi ti dico la verità è vero che per certi versi ci hanno anche ruoli diversi però mi piacciono molto di più io li vedo ad li lo vedo un giocatore di un livello assoluto e che non ha ancora dimostrato né al milan e qua qui vabbè ha giocato anche poco le sue vere potenzialità ma per me ci può fare veramente divertire molto meglio di arthur per certi versi passatemi il termine in in certe situazioni anche meglio di torreira chiaramente giocatori totalmente diversi è però un giocatore veramente completo richardson un ottimo prospetto io tra lui e mandragora non vedo cioè non so nemmeno cosa ci sia da pensare per dire poi cataldi per dire è entrato dopo a me questo giocatore mi sembra quello da compitino ancora non mi convince tanto però lo vedo un giocatore comunque molto prezioso almeno agli occhi di palladino e poi vediamo anche di inquadrare bove perché secondo me è anche lui è un bel è un bel elemento insomma ragazzi gli elementi ce l'abbiamo la squadra ce l'abbiamo i giocatori ce l'abbiamo mi sembra anche molto fornita soprattutto a centrocampo cosa che fino a tre anni a questa parte era uno dei dei ruoli più mancanti no sia in diciamo in uomini proprio a livello numerico che anche di qualità quest'anno ragazzi abbiamo molta qualità là davanti ma nonostante questo ancora non abbiamo una vera identità e oggi penso è per 60 minuti si è emersa ma non tanto perché ti mancavano i titolari perché con tutto il rispetto con una squadra del genere è veramente anche con le seconde linee devi non durare alcun tipo di fatica e questo non vuol dire avere l'ottanta per cento di possesso palla che più o meno ci siamo andati anche vicini lo stesso ma creare comunque azioni pericolose e non è mai successo abbiamo ci siamo dovuti riparare con i nostri tre elementi migliori è chiaro che in una competizione del genere con avversari del genere fai giocare gente come dodò che te li svernicia tutti ken che fisicamente e tecnicamente è una bestia good munson un giocatore per me di un'altra categoria e lo vedrete è chiaro è qui cioè salgono in cattedra ma ripeto non dovevamo nemmeno arrivare a questo a questo punto domenica per me abbiamo un grosso crocevia contro il milan una squadra che diciamo bene o male sta vivendo la nostra situazione anche loro in cerca di un'identità chiaramente diversa perché comunque vanno hanno elementi superiori hanno hanno vinto il derby quindi sono anche gasati però diciamo che anche loro allenatore nuovo in cerca di identità diciamo di destini molto simili se vinci domenica puoi finalmente con colpevole ritardo puoi iniziare un campionato diverso finalmente un campionato diverso se fai un'altra partita anonima prima di tutto vinca loro lo dico subito prima di tutto se fai se interpreti la gara come i primi 60 minuti qua o come per esempio peggio ancora come contro le empoli perdi perdi sicuramente ma soprattutto se fai ancora quella parte quel tipo di partita li sei sempre punto a capo dopo più di dieci partite a questo punto va bene ci vediamo domattina con le pagelle forza viola e jm